Drago Freebooter, un canale illegale, ma questo video? È bello! E così lo capisci, la mia intelligenza? Ci sta, eh, posso. È normale, ognuno ha il suo modo di valutare la valutazione. Questa tipa dove l'hai trovata? No, lei è una... Questa tipa dove l'hai trovata? No, l'hai trovata nelle Pringles. Hai dei pregiudizi verso i miei confronti? No, ma infatti Beppe... No, perché tu... Cioè, sei partito subito aggressivo. Cavacca, Beppe. No, no, io non sono subito aggressivo. Per darti degli aggressivi dovrei darti tre, quattro schiaffi. No. Rimbambita. No, 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 no. Non si dice, non si dice. Pone, l'hai va assieme, fai... Mi chieda scusa, per favore. Mi chieda scusa. Ma quale scusa? Puoi denunciarmi? Simone, Giuseppe, via Tripoli, 49, 73, 0, 40, Neviano, Lecce. Impecillo. Ti sto facendo una domanda. Rispetto. Esaurita. Tu sei solo un'esaurita. Ma... Ma per... Cavacca, non c'è stato così fretta. Ma Simone, ma cosa... Non lo so, non lo so, non lo so. E tu che hai detto, entra in line? Eeeh, non lo so. Ma che ti toccano i miei mezzi? Eeeh, non lo so. Non lo so. Eh, eh. Eh, Beppone. Per favore, chiedi scusa, ragazza. Ma senti, ma chi devo chiedere scusa? A questa rimbambita. Ma porca... Ma io non so cosa succede, ma ti giuro, non lo so, Mary. Ma cosa hai fatto? Adesso mi metto a piangere, guarda. No, 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 Mary, non mi bandano, non piangere. No. No, per favore. No, 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 no. Guarda, sto piangendo. No. Assurdo, quanto ci hai penato. Dai, Beppe, l'ultimo tentativo. Vuoi chiederle scusa? Niente, ma... Ma, scusami. Beppe, posso sapere perché ce l'hai con lei? In maniera pacifica, ti prego, non insultare. Io, io con questa, con questa... No, beh, io non ci posso credere. Mary, tu, ma c'è... Ma fa sempre, ma fa sempre così. Eh, no. Io, no, no, mica, non mi piavo. Aspetta, aspetta, con la tua intro. Ah, che miseria. E lo so, è la concorrenza. La contributa è la concorrenza.